E adesso una bella canzone di successo della nostra orchestra, c'è la canta degli Uchiarabini, Giardino Fiorito. La fila, la fila faccio circa una mezz'oretta, ma io l'ho già caricata, ne avevo due caricate, una l'ho caricata. La fila, la fila, la fila, la fila. 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 La fila, la fila, la fila. 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 La fila, la fila.